Sanremo 2023, Blanco non si sente in cuffia e decide di distruggere tutto il palco Ma la voce Dimmi che taff... cosa ti ha fatto arrabbiare? Che è successo? Che è successo? Purtroppo, ah no mi sentivo in cuffia, non sentivo la voce Perché hai spaccato i vasi e i fiori? Qual è il problema? C'è un significato? No, li voglio spaccare comunque Li doveva spaccare comunque, perché qual è il significato? Il significato è che non andava la voce, quindi ho detto mi diverto comunque